Io sono il fisiatra dell'Equipe, come ha detto giustamente Massimo, e vi ha già dato una ampia panoramica di quella che è la nostra mission dall'inizio della nascita del Centro Servizi Mobilità. La centralità, come già vi è stato sottolineato, è l'assistito e la cosa che mi preme sottolineare, oltre a partecipare a quest'Equipe, è che l'Equipe si propone soprattutto nella valutazione delle capacità di guida, ma non solo. Quindi la centralità dell'assistito è vista proprio con tutta una serie di servizi che fanno da corollario a un obiettivo unico finale, che è quello della reintegrazione, quindi del reinserimento sociale dell'individuo. Quindi non può limitarsi solo alla valutazione delle capacità di guida, ma come vedrete, da tutta una serie di attività che vengono svolte all'interno del Centro Servizi Mobilità. La valutazione delle capacità di guida ha come modello operativo una serie di step, quindi diciamo che viene dedicato all'assistito un tempo assolutamente dilatato, nel quale vengono svolte diversi passaggi. Il primo passaggio è dato da una visita medicotecnica, quindi sempre in Equipe si valuta tutta la documentazione sanitaria, lo stato clinico dell'assistito e quindi la condizione dell'assistito dal punto di vista delle menomazioni o della malattia, quindi non solo di menomazioni permanenti, ma anche di malattie eventualmente evolutive, come le malattie neurologiche, parliamo di traumi cranici o di mielolesioni anche. Dopo la prima valutazione si passa a una seconda fase in cui vengono valutate invece al simulatore di guida tutte le capacità psicoattentive con i test di reazione agli stimoli. E questo secondo passaggio è preliminare anche alla terza fase, che è quella poi determinante, nella quale si vanno a verificare tutte le acquisizioni delle prime due etappe, nella terza che è la prova di guida su autoadattata disponibile al centro protesi su un circuito interno nostro. Quindi veniamo a fare anche delle valutazioni pratiche per verificare se tutte le nostre intuizioni e deduzioni effettuate nella visita medica iniziale e nel test al simulatore vengono confermate anche dalla terza tappa, che è quella al simulatore di guida. Dalla terza fase, dal terzo step, si passa poi a trarre quelle che sono le conclusioni dettate dal resoconto di tutti i test effettuati, quindi anche quelli al simulatore. E dai test effettuati deriva anche una proposta, sempre in equip, che viene a sostenere quali siano le capacità funzionali residue e quali possono essere proposti come adattamenti del veicolo nella visita che poi verrà effettuata dall'assistito in commissione medica patenti speciali. E quindi l'assistito potrà corredarsi anche di un documento nel quale viene proposta un adattamento del veicolo. Al centro protesi, oltre a questa attività, viene svolta da un'ulteriore figura che compone l'equip, che è il terapista. Noi abbiamo come componente non solo il medico e il tecnico, ma anche un terapista, che è il nostro coordinatore dei terapisti di Vigorso di Budrio, che effettua un giorno a settimana le valutazioni delle capacità di guida con protesi o eventualmente il soggetto desiderasse non mettere in gioco la protesi nei nostri amputati ricoverati attraverso anche la disponibilità di una prova di guida su autoadattata. Quindi una volta a settimana viene effettuata anche questa valutazione sui nostri ricoverati amputati. Come vedete, le attività che vengono svolte all'interno del centro servizi sono tante altre. Vi verranno adesso esplicitate in maniera più soft e molto più approfondita, in realtà, con l'ausilio di un filmato e con il commento di Nicola. Però ve le elenco. Come vedete, sotto viene riportata anche una statistica. Al nostro centro afferiscono circa 800 utenti all'anno e vengono effettuate all'incirca 300 valutazioni delle capacità di guida. Quindi sono numeri importanti. Oltre, come vi dicevo, alla valutazione delle capacità di guida, l'assistito viene anche accompagnato in commissione medica patenti. Abbiamo un appuntamento settimanale in cui gli assistiti vengono accompagnati in commissione medica patenti a Bologna. Quindi vengono anche supportati dalla competenza dei nostri tecnici. Esiste una collaborazione con le autorità competenti che viene sviluppata dai nostri tecnici anche. Una consulenza per la scelta e personalizzazione con noi accompagniamo anche nella scelta del veicolo e nella scelta dei migliori adattamenti, quindi personalizzati, del veicolo scelto dall'individuo. Quindi non lasciamo il soggetto una volta fatta la valutazione, ma lo accompagniamo anche nella scelta del veicolo, nella scelta degli adattamenti e grazie a un'officina presente al centro protesi siamo disposti e disponibili anche ad adattare personalmente l'auto del disabile. Quindi possiamo anche garantire e accompagnarlo lungo il percorso dell'adattamento delle auto. Effettuiamo anche un addestramento all'uso dei dispositivi. Tenete conto che oggi i dispositivi sono anche ad alta tecnologia, quindi non è così scontato che si sappiano utilizzare. Occorre anche un'adeguata conoscenza ed addestramento all'utilizzo dei dispositivi. Un esempio lì scritto è quello del joystick. La promozione di ricerca scientifica di settore viene sviluppata attraverso rapporti che il centro protesi ha nei confronti di Atenei e di aziende produttrici anche per il testing dei vari dispositivi, in particolare quelli ad alta tecnologia. Per esempio le mani poliarticolate, per chi le conosce. Ci sono mani poliarticolate che vengono ad essere utilizzate per la guida e che possono anche mettere in condizioni il soggetto di non avere adattamenti delle auto. Quindi possono limitare l'adattamento dell'auto. Attività sportive e motociclistiche vengono promosse. La certificazione è già stata detta stamattina di efficienza delle protesi ed ortesi per la guida rappresenta un'altra attività importante per corredare l'assistito una volta dimesso con protesi per certificare che la protesi sia efficiente per l'utilizzo di determinati adattamenti dell'auto. Io lascio la parola a Nicola che adesso tutto ciò lo approfondirà grazie anche all'ausilio di un filmato che vi renderà chiaro qual è la nostra attività all'interno del Centro Servizi Mobilità. Grazie a tutti.